Buongiorno di nuovo, benvenuti alla conferenza stampa dedicata al film Manticora di Carlos Vermuth ma anche all'omaggio che il Torino Film Festival ha scelto di dedicargli. Io ho il piacere di accogliere Carlos Vermuth e anche il curatore dell'omaggio che è Giulio San Giorgio e abbiamo qui la nostra fedele traduttrice Gigliola Viglietti, grazie. Allora Manticora è qui in un'anteprima italiana, quindi il film è stato presentato al Festival di Toronto in prima mondiale ed esce nelle sale spagnole a dicembre. Però prima di parlare di questo film io vorrei lasciare la parola a Giulio perché ci racconta un po' questo omaggio che è stato pensato per lui. Sì, buongiorno a tutti. L'omaggio nasce dalla visione che abbiamo avuto di Manticora, che è una visione che abbiamo reputato tra le più importanti e centrali dell'anno, tra i tantissimi film che abbiamo visto e questo ci ha incuriosito nell'approfondire l'opera di Carlos che conoscevamo in realtà unicamente per uno dei suoi film precedenti che era Magical Girl che ha vinto a San Sebastian nel 2014. Abbiamo scoperto che addirittura un suo film era stato distribuito su Netflix e non ne sapevamo nulla. Insomma è stato veramente un innamoramento e la ricerca di approfondire una figura che ci sembrava importante. Era importante per il Festival tornare ad approfondire il cinema di un regista contemporaneo e proporre una personale proprio per un'idea di portare avanti una politica d'autore che portasse non unicamente come dire un cinema chiuso su se stesso ma che affrontasse in realtà il genere e questioni che avevano a che fare con profondamente con il contemporaneo. E da un lato il cinema di Carlos ci permette di affrontare tantissimi autori perché ogni volta che parliamo dei suoi film ci vengono in mente tantissimi autori, non so Diamond Flash qualcuno ne ha parlato come una sorta di film tarantiniano e poi che in qualche modo lavora anche sul concetto di sop'opera, Chiente Cantara, abbiamo parlato di Eva contro Eva e di Bergman, insomma abbiamo visto che in questo film, nel cinema di questo cineasta erano come dire presente tantissima storia del cinema ma al contempo uno sguardo molto originale, uno sguardo che consente allo spettatore di avere un suo spazio ed era la cosa più importante, cioè far sì che il cinema non portasse delle idee precostituite ma costruisse uno spazio per lo spettatore per porsi delle domande e delle questioni. La cosa straordinaria di questo cineasta è che i suoi film sono rigorosamente geometrici, implacabili, ineluttabili nella loro costruzione veramente millimetrica e perfetta ma al contempo riescono a lasciare lo spettatore uno spazio per mettere alla prova cosa vuol dire guardare qualcosa, cosa vuol dire valutare, giudicare moralmente qualcosa. In un'epoca dove le opinioni sono molto polarizzate e i discorsi in qualche modo sono molto semplificati, avere di fronte un cinema che richiama la complessità in questa maniera così importante ci sembrava anche un gesto politico in qualche modo. Carlo, domani ci sarà anche questa, approfitto per dirlo subito, ci sarà anche questa masterclass domani alle 13 qui in cui ci sarà la possibilità sempre all'interno dell'omaggio di fare uno scambio col pubblico, quindi è aperto al pubblico e ci sarà un dialogo sulla sua opera. Io mi ricollego a quello che stavi dicendo perché mi sembra che questo spazio che ha lo spettatore è anche quello che permette di entrare in contatto non tanto con la perversione di questo personaggio ma con la sua sofferenza quindi ci mette direttamente in una parte in bilico perché noi sappiamo che può essere feroce ma lo prendiamo dall'altra parte e questo è tutto l'interesse credo del rapporto col personaggio. Non c'è una domanda, è un'osservazione, volevo sapere cosa ne pensavo. Ora? Bene. Antes di nada, voglio dar las grazie al Festival, al Festival di Torino per invitarmi a Manticora e proiettare le altre tre film. Mi ha fatto moltissima illusione e a parte voglio felicitare al Festival per il suo 40 compleanno. Grazie. Prima di tutto vorrei ringraziare il Festival per questo invito nei miei confronti e nei confronti non soltanto di Manticora ma di tutti i miei quattro lungometraggi e questa cosa mi ha fatto un enorme piacere mi ha dato grande contentezza soprattutto anche perché è un invito che arriva al 40esimo anniversario, diciamo, compleanno del Festival. Con relazione al commentario che hai fatto su come accompagniamo a Juliano che lasciavamo fuori del campo, era sobre eso lo che hai comentato? È certo, sì, era un espacio che io deixavo, in generale, mis películas suelo deixar bastanti eslipsis e espacios abiertos non tanto per che il espectatore las rellene a nivel intelectual, sino per che las rellene a nivel emocional perché sento che il misterio, per il misterio, è qualcosa che mi interessa, è qualcosa che non interpela come individuos in lugar di interpellarnos come gruppo, la misma película, dipende di chi la vea, può convertirsi in una cosa o in un'altra e quindi dipende molto dell'espectador che la película si completa, di che tipo di spettatore sia. Sì, per quanto riguarda il commento, in realtà sì, sono perfettamente d'accordo, nel senso che questa è la lettura di quelli miei film che in realtà hanno una struttura ellittica e sono molto più mirati a una fruizione che non sia propriamente cinematografica ma propriamente di interpretazione emotiva, nel senso che devono raggiungere quello che è il cervello limbico emotivo del pubblico e quello che mi interessa nei miei film è proprio il modo in cui il film può trasformarsi a seconda del pubblico sulla base del mistero, nel mistero stesso che mi interessa del film, cioè il mistero è un qualcosa che non è soltanto l'individuo che reagisce al film e al mistero del film, che è un segreto quello che c'è nel film ma ha un intero gruppo nel senso che dipende da come sono gli spettatori, quello che può essere il risultato finale della fruizione. E nel caso di Manticora è certo che non mi interessava tanto la peripezia morale del protagonista o investigare o profondizare dentro della pedofilia. Bueno, non so se qualcuno ha visto la película o no, tampoco quiero... L'avete visto il film, sì, si possono dire cose. Sì, sì, sì. Bueno, poi per te lo vorrei dire, lo sento per gli altri, però, beh, è al principio della pellicola. Non volevo approfondire demasiado nel tema della pedofilia, non volevo fare un studio sobre la pedofilia a livello clínico, però mi interessava come qualche persona, in questo caso elegì questa condizione, come se relacionava esa persona con il mondo de lo virtual e la pregunta moral che nos haria di hasta che punto possiamo legislar o come nos relazionamos no tanto con un deseo, sino con la trasformazione de ese deseo nel mondo virtual, in cui, per supuesto, nadie sale perjudicato a un livello fisico, por decirlo así. Questo riguarda lo spazio che viene dato allo spettatore e ai personaggi del film, nel senso che per quanto riguarda Manticora e il personaggio di Fuglian, diciamo, quello che mi interessava di più nel film non erano tanto i suoi, chiamiamole periperzie morali, tutte le sue problematiche a livello morale, non mi interessava uno studio approfondito clinico qui della pedofilia, ma quello che mi interessava era soprattutto vedere come era la sua gestione nei confronti del proprio problema e del mondo che lo circondava, le soluzioni che poteva intraprendere e soprattutto rispondere a una domanda che finora nessuno si è fatta a livello, per esempio, di normative, legislazione e così via, fino a che punto si può pensare di regolare a livello normativo quello che è, non l'atto stesso, ma il desiderio è un qualcosa che può essere trasformato a un livello diverso in un mondo virtuale. Come si può gestire questo passaggio da quello che è il mondo reale al mondo virtuale? L'utilizzo del virtuale mi sembra che sia fondamentale per far sì che ci avviciniamo allo spettatore dal punto di vista del suo desiderio, è una chiave che a me è sembrata molto importante. Visto che avete visto il film immagino che avrete delle domande. Salve. Si è parlato di Cronenberg e Lang come riferimenti cinematografici, volevo chiedere invece proprio per l'importanza del virtuale nel film, quali sono i riferimenti in qualsiasi ambito artistico visivo, quindi fumettistica, anche da dove lei arriva, video art, arte videoludica, qualsiasi, quali sono tutti i riferimenti? Nel film si cita Giungito, si cita Goya e volevo sapere quali erano quegli artisti dalla quale si sente veramente ispirato nella sua arte. Sì, ho capito. Quando empecé a fare la film, questa film in cui empecé a scrivere Manticora, tenía la idea di questo personaggio che era un pedofilo, che non poteva avere relazioni con il figlio che amava, però che aveva una chica che si parecia fisicamente a... solo aveva eso. Estuve a varios años con esa pequeña historia che me parecía interessante, però che non conseguía desarrollar. Entonces, fue cuando entró el mundo de los videojuegos, de lo virtual, y ahí se abrió un campo de posibilidades que hacía que la película cobrase más otra dimensión, de manera literal, también. Si, cuando he cominciato a scrivere, a pensare a Manticora, a questo film, avevo principalmente, avevo un'idea alla base del film che era nella rappresentazione di questo personaggio, che dove era un personaggio, un pedofilo, che non poteva avere ovviamente nessun rapporto con quello che era il bimbo di cui era innamorato, però a un certo punto appare incontro una ragazza che assomiglia, mettiamo così, che insomma ha delle somiglianze con questo bambino e quindi da lì si poteva sviluppare la storia. Questa era la storia di base, però era tutto bloccato a questo punto per alcuni anni perché non avevo, non vi era possibilità in quel momento di evoluzione. Poi a un certo punto sono entrato nel mondo dei videogiochi e mi sono, in realtà virtuale e così via, e mi si è aperto un intero mondo di possibilità a questo punto. Quando empecé a investigare in elementi relazionati con i videojuegos, me di cuenta di che tutti i modellatori, o la maggiorità dei modellatori che buscava come referenza, tutti avevano modellato una Manticora, sempre. Era come il monstro, quando stai aprendendo a modellare, creo che è il monstro che todo il mondo modella, perché tiene un rostro umano, può fare un rostro umano, che è lo più difficile sempre quando stai facendo modelato, e tiene un corpo di leone, può fare un elemento fantástico, può fare... È un monstro che alberga molti cose, per poter praticare, per poter... Quindi senti che... E poi parlo della referenza, non mi ho ho olvidato, però sto come intentando llevarla a la pregunta, a la risposta. Si arriva la... Me di cuenta di che la película, este personaje tenía mucho de esta Manticora, era un aspetto che puede ser un rostro umano, però esconde una monstruosidad, no? Y eso es lo que me interessava de... Eso es lo primero que me ha ofrecido il mondo de los videojuegos, por ejemplo. E quindi, quando ho incominciato a interessarmi, a entrare nel mondo dei videogiochi e della realtà virtuale, mi sono reso conto che in realtà praticamente tutti coloro che facevano i modeler, modellavano i personaggi, facevano il modeling dei vari personaggi, tutti, quasi senza esclusione, avevano sempre fatto il modello e modellato una Manticora, cioè tra tutti i mostri, tutti, perché era il mostro praticamente iconico per tutti, che era una specie di banco di prova, perché ha dato la sua composizione con la testa di uomo, la faccia umana, che è la cosa più difficile per chi deve, per i creare, per i creare, chi crea personaggi da modellare e corpo di leone, insomma rappresentava un banco di prova, una possibilità di fare tanta, tanta, tanta esercitarsi sia per quanto riguarda l'aspetto della riproduzione dei lineamenti umani, sia introducendo l'elemento fantastico rappresentando da tutte le altre parti del corpo della Manticora, quindi c'erano tante cose nella Manticora che permettevano appunto di esercitarsi e tutti l'avevano fatto. e poi ho pensato a questo punto che questo mostro, in fondo ci fossero dei punti di contatto tra tantissimi, tra Julian, il personaggio, e la Manticora, non l'ho dimenticato, adesso poi arrivo a tutti i riferimenti, perché lui naturalmente è un essere umano che però alberga dentro di sé anche un aspetto mostruoso. Dice questo, per esempio, quando suona il telefono di Julian si può ascoltare la musica di Ghosts and Goblins, che è un gioco degli 80 molto, molto, molto difficile. Abbiamo anche la referenza che io utilizzavo per il videojuego che stava desarrollando Julian nella pellicola, abbiamo referenze di Hideo Kojima, per esempio, che fa cose anche molto mostruose. Il Dark Souls, che è un gioco che ha una estetica molto oscura, monstruosa, un gioco, per l'altro, che è difficilissimo, ho intentato giocare e è impossibile, non ho conseguito, è una tortura, perché ho iniziato a giocare a questo tipo di gioco, a me piace il Mario Kart, non gioco a gioco realmente molto, molto oscuro, mi piace le cose, il Mario, però ho iniziato a giocare a questi gioco, il God of War anche, ha molti monstrui, ha il God of War, il dios della guerra, e ho avuto una temporada di giocare a giochi molto, molto, molto violenti. Credo che questo sta nella pellicola, nella parte che ha parlato del mondo dei videojuei di Julian, per quanto riguarda i riferimenti, appunto, ci sono nel film tanti riferimenti musicali e anche, come abbiamo detto, ai videojocchi, per esempio, quando lui risponde al telefono, si sente la musichetta dei Goblin, di quel gruppo degli anni Ottanta, poi tanti videojuei, quelli di Kojima, tutti quelli che contengono tanti mostri di tutti i tipi, piuttosto violenti, anche perché ho passato un periodo, mi piace molto giocare ai videojocchi, ma ho un periodo giocare a giochi parecchio dark e violenti, Dark Souls, per esempio, che contiene tantissimi mostri, però è difficilissimo, e proprio non ci sono riuscite, è stata una vera tortura, perché ci ho provato, ma niente da fare, e God of War, of course, naturalmente che contiene tantissimi mostri di tutti i tipi, quindi io sono il tipo a cui piace Mario, giocare ai giochi Mario Kart, cioè giocare ai giochi semplici, lineari. Sì, hai detto una cosa, e è che la musica era di Goblin, però ojalà, no, no, era Goals and Goblins, però Goblin mi abbia encantato che abbia fatto la banda sonora. Ok, Goals and Goblins, scusate. No, no, però hai detto qualcosa di Goblin, che ha fatto la musica di Dario Argento, che mi piace molto, Goblin, sì, sì. Ojalà in alcuna pelicola potesse metter la musica di Goblin, sì, sì, la prossima volta. Goals and Goblins, come fantasmas e Goblins, è un videogame de los 80. Ah no, no, scusate, questo è un errore che ho fatto io, la musichetta era non quella di Goblin, era di un gioco degli anni 80, che non so se conoscete, Goals and Goblins, però dice il prossimo film mi piacerebbe, perché adoro i Goblins, e mi piacerebbe quelli di Dario Argento mettere proprio in un mio film. Hai un'esposizione ora nel Museo del Cinema di Dario Argento, no? Sì. Avete visto l'esposizione di Dario Argento al museo? Ti piace Dario Argento? Ti piace Dario Argento, sì? Io non so se a la gente joven le gusta Dario Argento, o sea, non lo so. Sì, perché non so se ai giovani piace ancora Dario Argento, non ho proprio idea. Depende, no? Tambien. Las ultimas... Bueno, no sé, tampoco. Dice le ultime. Ci sono altre domande? Buongiorno. Buongiorno. Io vorrei chiedere qualcosa riguardo alla scelta degli attori, perché il protagonista è straordinario, trasmette un'inquietudine fin dalle prime inquadrature del film, e anche sul bimbo che ha scelto come ha lavorato con lui. Grazie. No, non ho... Come hai scegliato il protagonista? E il personaggio che ha lavorato con lui? Come hai scegliato e ho lavorato con lui? Vale. Muchas gracias per la pregunta. Io sempre... Il tema... Lo que máis importanza le doi al processo de los actores è al casting, solo a la selezione del actor o la actriz, è lo máis importante. Lui, è vero che non ho un processo nel lavoro che non sia... Soi molto meticuloso con la aczione, di che tenen che colocarsi qui, di che moverse. Soi molto obsesivo con lo che i personaggi possono e non possono fare, i actori possono e non possono fare con il texto. Ehm... Chissà... Mi gusta... In Spagna tenemos un gran... Ahora voy que... Es que no, es que lo que viene ahora... Va a necesitar tiempo, ¿sabes? Allora, incominciamo dalla premessa, perché poi dice quello che... E ci vuole... Dunque, quello... La premessa è che in realtà, ovviamente, per me, una delle cose, come ho sempre detto, una delle cose principali per quanto riguarda la regia e il fare il film e il casting, la scelta ovviamente degli attori. E io, che tutto viene collegato anche al fatto, dice, io sono estremamente meticoloso, estremamente forse ossessivo dal punto di vista di quello che permettono, sia per quanto riguarda i movimenti, sia per quanto riguarda quello che è poi la recitazione, il copione, eccetera, ai miei attori. Los actores me llamaban el policía de la actuación. Gli attori mi hanno sempre chiamato el policiotto de la recitazione. Porque en España, en Italia, tenéis algo maravilloso y es che vocalizáis muy bien. Cada palabra, cada sílaba sta bien pronunciada, pero en España tenemos un gran problema con esto. O sea, los actores no saben vocalizar. No, no, es una realidad. Y siempre está esta cosa de que en el cine español no se entiende lo que dicen los actores porque verdaderamente no se entiende. C'è anche el fatto que en Italia los actores estudian la edición, toda la edición es bien scandida, si capisce lo que dicen. En España, en España, en España, absolutamente no lo hacen y no se entiende absolutamente lo que dicen. A ver, no es que no se entienda nada, pero a veces hay grandes problemas para la vocalización, también tienen problemas para recordar el... Bueno, no hay ningún español, ¿no? Aquí en... No hay españoles aquí que pueden ser off-face. ¿Y estáis grabando esto? Sí, ¿no? Estáis registrando, Vale, da igual. No va a querer trabajar ningún actor conmigo más. Ningún actor no va a trabajar conmigo conmigo. Pero sí que creo que es importante, yo insisto mucho en la vocalización, en recordar el texto, en ser preciso, creo que es un trabajo muy sencillo y siempre es verdad que sobre... La idea de la actuación sobrevuela una idea como un poco mágica de que hay una especie de profundización en el personaje como Denis de Luis, que entiendo que hay gente que es así, pero yo soy mucho más preciso, mucho más artesano en cuanto al proceso de trabajo y eso es lo que yo insisto muchas veces con los actores. Con los niños es distinto porque tienes que jugar más con ellos, tienes que provocar que lleguen al lugar de una manera distinta y tienes que conocer... Cada actor es un mundo pero lo que hay que intentar es al menos estas tres cosas que para mí son las tres pilares de la actuación son que no sobreactúen, que vocalizan y que recuerden el texto. No es que no se capisca todo lo que dicen pero solo que hay una edición que es absolutamente poco pulida y que para mí una de las cosas essenciales en línea general para lo que se trata de los actores y que deben responder a tres principios que son que deben haber una buena edición deben recordar el texto a memoria y no deben recitar sobre las líneas no deben esagerar la recitación es realmente importante claro que es importante cuando se habla de recitación en general se habla de entrar en el personaje a la Jenny de Luisa pero para mí lo que importa son estos puntos de referencia poi naturalmente lavorar con los actores depende también de los actores y sobre todo si consideran los niños el approccio es diverso porque los niños tienen que jugar con ellos necesitarlos 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 para poder obtener la recitación desiderada gracias carlos purtroppo dobbiamo chiudere ma penso che l'appuntamento di domani risolve le nostre problematiche di tempistica oggi si ricordo che carlos sarà con noi per tutte le proiezioni della fascia delle due al greenwich 2 cioè domani cioè oggi domani dopo domani e domani appunto ci sarà l'una qui il dialogo col pubblico quindi insomma venite numerosi grazie 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 carlos grazie 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 grazie